Sono passati un po' di anni da Arte di Mezzo, naturalmente devo ringraziare Luca Mauriello perché mi ha permesso attraverso Arte di Mezzo di fare iniziare un percorso della mia carriera e quindi mi ha dato la possibilità di fare diversi concerti, addirittura di andare a Bruxelles e non ultimo di fare il video di gesti mancati a questo brano, insomma che quest'anno mi ha dato parecchie soddisfazioni. Ovviamente questo brano non esisterebbe senza il suo autore, che è Patrizio Rani Riccio, a cui io sono legatissima da tantissimi anni, da quando ero una bambina praticamente, 14 anni, e lui mi ha donato il testo, mi ha donato la musica di questo brano e fortunatamente io l'ho sposato al 100% e adesso stiamo vivendo insieme un bel percorso. Ieri io sono tornata da Roma, dove domenica si è avuta la premiazione di questo premio internazionale quello dedicato a Jimmy Fontana in cui c'erano in giuria comunque personaggi importanti come Vince Tempera, come il figlio di Fontana, come Lino Patruno, diciamo il portatore del jazz in Italia e loro mi hanno dato una bella felicità che è stata appunto quella di farmi vincere il primo premio e non solo, anche un premio speciale dedicato a Jimmy Fontana e oltretutto, a parte la parte dedicata al brano in sé per sé, anche al video che è stato realizzato da te Gianfranco in modo meraviglioso e infatti questo video non è ancora uscito proprio perché era in concorso e che ha avuto comunque una bellissima soddisfazione arrivare al secondo posto. Alistar hai avuto tanta pazienza, noi ci sentiamo spesso in chat proprio per questo progetto e tu però non dici sempre aspettiamo, stiamo facendo, arriverà qualcosa e alla fine hai avuto ragione Sì, perché a volte nella musica i percorsi non vanno come uno si aspetta che debbano andare a volte si pensa, faccio una canzone, deve uscire, deve avere quel percorso a volte i brani hanno una vita differente e io sto lavorando a questo progetto discografico da un po' di anni molto probabilmente è anche giusto che non sia uscito fino adesso perché mi ha permesso innanzitutto di lavorare ad alcuni brani oltre che con Paco Ruggero che è un bravissimo arrangiatore e che ringrazierò sempre, di incontrare e lavorare con Erasmo Petringa con cui ormai ho stretto un'amicizia diciamo siamo diventati molto affiatati soprattutto sul lavoro dei brani lui sta lavorando a brani oltre a questi qua del disco anche ad altri brani miei e oltretutto anche a me di raggiungere una maturità diversa quindi adesso è il momento questo di portare in vita questo progetto e dopo questa grande soddisfazione con questo brano che appunto gesti mancati e che diciamo è uno dei brani a cui io sono più legata e ad altri brani ad esempio Dove cominci tu che mi ha portato in finale a Sanremo insomma io ho fatto fare a questi brani di questo progetto un percorso un po' differente io ho dato prima dei premi e poi una popolarità insomma Alistair si può dire a parte l'autore e un po' qualche altro collaboratore che è stato un progetto che ha avuto un fulcro in Valle Caudina si è partiti con Arte di Mezzo poi prima mi hai citato due diamanti della musica caudina grandi amici ma grandi professionisti più Luca, più Sanio Eppina Labbo più te che sei di Aeroa una bella joint mentor cosa si dice adesso? Sì, sì assolutamente devo dire che la Valle Caudina mi ha dato una bella spinta insomma un bel sostegno per la mia carriera artistica e musicale e io ne sono felicissima perché io sono nata qui e anche se ci sono poco perché fortunatamente la mia vita artistica mi sta portando lontano la Valle Caudina mi ha dato quella spinta soprattutto nei miei primi anni di carriera tra le altre persone che hanno fatto parte di questo progetto soprattutto per la realizzazione del video non possono ringraziare Domenico Gallo per l'acconciatura e Elena De Angelis per il make up e oltretutto noi abbiamo registrato abbiamo fatto le riprese di questo video nel castello ducale di San Martino e quindi non possono ringraziare i proprietari del castello che ci hanno permesso di entrare, di utilizzarlo di insomma invadere un po' i loro spazi Alessandro, chiudiamo adesso saranno tutti curiosi e ascoltare questo brano e dire il video io conosco già tutto essendo di parte quando possiamo farlo uscire? Spero a breve non ancora c'è una data precisa però spero a brevissimo perché non vedo nemmeno io l'ora di farlo vedere a tutti Continuo il mistero